Sono tolti i botanici per venire a vedere questa pianta, perché non la trovano in nessun'altra parte del mondo, la trovano solo qua. E poi ti dico una cosa, c'è stato un ragazzo che era un botanico, che si trovava a Roma, e parlando con un nostro compaesano, si parlava di Petagna. E questo, il nostro compaesano, sta allontando chi è la Petagna, chi è avanti un museo di Petagna, il Petagna stava andando in Svizzera, si è preso il treno ed è venuto qua. E ogni 2-3 anni viene con i turisti per venire a vedere questa Petagna. Ecco, l'importanza della cosa, si chiama Petagna perché in questo paese, in questo paese, nel territorio di questo paese, ci sono 4 stazioni di Petagna.